buongiorno cari amici interisti e non cari amiche interiste e non buongiorno mamma mia ma cosa ho visto ieri sera mamma mia ragazzi ho visto il real madrid con la maglia del milan ragazzi il milan sembrava il real madrid e il real madrid sembrava il milan ragazzi ma o porca mia che roba mamma mia o ragazzi mi dispiace ma io non ce la faccio rosicare scusatevi ma quando si tratta di squadre italiane che si incontrano con squadre italiane allora magari subentra il tifo interista ma quando si tratta di europa quando si tratta comunque di squadre italiane che giocano con squadre straniere allora lì fermi tutti fermi tutti il tifo dell'inter viene un attimino messo da parte non del tutto però un pochino sì e si pensa al fatto che quelli sono italiani contro altri e dato che l'italia è sempre un po tartassata in europa e nel mondo diciamo così io a maggior ragione mi sento vicino alle squadre italiane quindi sono contento per il milan sono molto anche perché poi fra l'altro ho degli amici milanisti io ho degli amici milanisti e quindi sono contento per loro sono contento per il milan perché è una squadra italiana riguardo la juventus allora io in quanto italiano propenderei per essere contento del risultato perché andare a pareggiare in casa del lil o del lil non è così semplice ha battuto il real madrid voglio dire anche il milan ieri sera probabilmente il real madrid è un po in crisi ma questo a noi non ci interessa quando l'inter era in crisi gli altri se ne approfittavano e ridevano e gioivano adesso magari facciamo la stessa cosa anche noi io non sono certamente milanista però sono italiano e non venite a tirare fuori la cosa che sono un ipocrita perché in realtà sto sto rosicando allora io l'ho già spiegata sta cosa qui quando si tratta di squadre italiane che giocano all'estero soprattutto se si tratta di milan e juventus io in ogni caso alla fine sono abbastanza contento in entrambi i casi come sono abbastanza seccato in entrambi i casi cioè se vincono le squadre italiane sono contento perché hanno vinto le squadre italiane però trattandosi di milan o trattandosi di juventus sono altrettanto contento quando perdono diciamo così no un po più un po più seccato quando perdono mi dispiace perché l'italia ci fa una brutta figura capito io invece voglio che le squadre italiane facciano una bella figura che si facciano valere e che tutti quanti dicono o come po come forte il calcio italiano dopo ne parliamo dopo ne parliamo allora intanto vi invito ad iscrivervi al canale cliccare sulla campanella mettere un like e lasciare un commento queste cose sono indispensabili per la crescita del mio piccolo canale insomma se mi fate questa cortesia di iscrivervi al canale mi fa mi fa piacere mettere dei like lasciare commenti e cliccare sulla campanella per le notifiche anzi fatemi un regalo dai la butto la butto là mi fate il regalo di arrivare a 3000 iscritti per natale l'ho detta grossa spero di no dai spero di no spero di arrivare a 3000 iscritti per natale e comunque in ogni caso a priori in ogni caso ringrazio tutti quelli che si sono iscritti al canale che mi fa molto piacere non so non sono molto bravo con i ringraziamenti però vi garantisco che wow lo considero un vero e proprio onore ragazzi che tante persone stiano ad ascoltare quello che dico io mi commuove e mi mi sento molto onorato grazie 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 di cuore ma andiamo avanti allora la juventus ha pareggiato allora io da italiano quindi non c'entra niente il tifo interista da italiano ero contento perché comunque ha fatto un'ottima figura ha quasi spadroneggiato se non ha spadroneggiato però non è riuscito a fare più gol di quelli che di quell'unico che ha fatto e per questo motivo ho visto i tifosi i youtuber i juventini quelli che parlano di calcio e non dell'Inter per intenderci i youtuber i juventini che sono arrabbiatissimi con Tiago Motta perché la squadra ha giocato bene fino ai cambi e poi dopo invece si è affossata non so ho visto uno ha detto che segnatevela sul calendario perché questa è la prima volta che parlo contro Tiago Motta quindi un altro arrabbiatissimo insomma boh non lo so a me non sembra tutto questo gran brutto risultato io da interista quindi non direttamente sentimentalmente coinvolto mi sentirei di essere contento per il risultato perché comunque è un pareggio fuori casa in Francia vabbè che le squadre francesi non è che siano tutte del Real Madrid o cosa del genere però oh ragazzi se i tifosi juventini sono dispiaciuti per questo risultato hanno tutta la mia vicinanza e da italiano però io sono orgoglioso della loro partita mi dispiace ragazzi ma è così io sono orgoglioso della loro partita e non parliamo poi del Milan mamma mia ragazzi annientato il Real Madrid annientato annichiliti annientati proprio fatti sparire dalla circolazione Mbappé Bellingham Vinicius e quell'altro che è Camavinga cioè tutti questi nomi che fanno impressione soltanto a pronunciarli sono stati annullati neanche ci fossero stati tre acerbi la in difesa tre o quattro acerbi battuta da interista scusatemi scusatemi allora io ho sentito che anche ho visto anche sui giornali che viene incensato un po' Leao però sinceramente a me a Leao di tutti i giocatori del Milan è quello che mi ha impressionato di meno anzi ieri sera sull'onda di di quello che stavo vedendo per me non ha giocato una gran partita però viene incensato il Leao di qua il Leao di là e vabbè ha fatto un assist un cross più che un assist perché l'assist tu passi la palla e arriva un tuo un tuo compagno che la calcia dentro o di testo o quello che è lì invece il Reinders ha dovuto sistemarsi la palla perché non gliel'è è arrivata bene gli era arrivata ma non gliel'è è arrivata proprio da calciare e basta se l'è dovuta sistemare poi ha segnato e ha fatto il gol quello è stato per me l'unico lampo alla Leao l'unico lampo poi altri magari mi sono sfuggiti perché può essere non ho seguito la partita con attenzione fino però ogni secondo spesso mi distraevo perché non trattandosi dell'Inter capirete anche voi ero ho preferito guardare quella piuttosto che quella della Juventus perché ovviamente mi intrigava di più no? Milan che gioca in casa del Real Madrid il Lille non è diciamo non ha lo stesso fascino del Real Madrid quindi mi sono concentrato più su quello appunto il mio parere personale il mio parere personale è che Leao non mi è piaciuto mettiamola così non mi è piaciuto forse non capisco niente di calcio può anche essere però non mi è piaciuto e tutti questi incensamenti nelle prime pagine dei giornali parlano di Leao ragazzi i giocatori bravi del Milan sono stati gli altri non Leao Leao ha fatto due sortite che è partito in palla che sembrava dovesse arrivare in porta e poi dopo si è fatto togliere miseramente la palla attorno al cinquantesimo mi pare due volte insomma a me non è piaciuto Leao gli altri si tutti tranne magari qualche un'uscita di Mignan che è andato via di pugno quella che poi dopo ha causato il gol che per fortuna era in fuorigioco quella uscita di Mignan non mi è piaciuta che ha dato il pugno al pallone e l'ha proprio passato nei piedi del calciatore che non mi ricordo chi fosse il quale del giocatore del Real Madrid che poi dopo ha calciato e ha fatto gol per fortuna che era con una mezza gamba in fuorigioco se no sarebbe stato valido sarebbe stato una roba un errore grossolano di Mignan io qualche volta da ragazzino ho giocato in porta quando stai per colpire la palla non è che la butti senza guardare dove la butti lui ci ha dato il pugno ma a me la puoi indirizzare la palla vedi mentre dai il pugno vedi dove buttarla lui l'ha buttata proprio sui piedi dell'avversario non mi sembra stata una bella cosa però non mi sembra che sia stata una bella cosa però poi alla fine è andata bene è stato annullato e bene così bene così l'occasione ha anche l'altra cosa che ha Mignan che ha dato ha calciato via la palla per 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 non so per passarla a qualcuno e l'ha messa di nuovo nei piedi dell'avversario di un avversario il quale chi era? Mbappé mi pare non mi ricordo beh comunque uno di loro che ha calciato la palla l'ha scarocato Mignan era fuori all'inizio dell'area là davanti meno male che non ha preso in porta Mignan di sera assieme a Leano sono gli unici due che non mi hanno diciamo soddisfatto in pieno non mi hanno convinto però rimane il fatto che il Milan ha fatto un figurone ha fatto una partita storica come succedeva tanti anni fa quando andava in casa del Real Madrid e lo bastonava stavolta è andato in casa del Real Madrid e l'ha bastonato come faceva una volta tanto tempo fa e questo mi fa piacere mi dispiace se qualcuno si risente perché invece di sentirmi rosicare o di sentirmi gettare fango sul Milan e sulla Juventus io non lo faccio non lo faccio non lo faccio perché innanzitutto in questo frangente sono squadre italiane punto ok poi dite voi quello che pensate io la penso così penso così ah ecco questa era l'ultima cosa che mi andava di dire io sono fatto in questo modo perché amo l'Italia e amo la nazionale e amo tutto ciò che è italiano ok e quindi anche le squadre italiane e non mi va che vengano prese a pesci in faccia quando vanno a giocare all'estero non mi va che il resto del mondo rida dietro all'Italia per via del calcio parlo del calcio naturalmente rida dietro all'Italia per via del calcio che tutti quanti preferiscono incontrare le squadre italiane perché sono scarse come avevano detto l'altro anno quando l'Inter è arrivata in finale di Champions League tutti quanti erano contenti che di incontrarsi con l'Inter perché l'Inter era scarsa lo dissero un ex giocatore inglese non mi ricordo chi fosse però lo disse ecco queste cose qui mi danno un fastidio che la metà basta mi danno molto fastidio e questo riguarda anche le altre squadre italiane non soltanto l'Inter con l'Inter mi dà ancora più fastidio immensamente più fastidio però con le altre squadre italiane mi dà anche fastidio mi dà fastidio e quindi sono contento quando le squadre italiane fanno una bella figura e a questo proposito volevo fare un saluto a Cassano Cassano allora com'è scarso il calcio italiano oh com'è scarso il calcio italiano in Italia le squadre che vanno fuori a bastonare il Real Madrid e a bastonare il Lilla perché la Juventus non l'ha vinto ma meritava di vincere attenzione bene e vanno a bastonare queste squadre qua queste squadre qui che bastonano le squadre in Italia fanno fatica fanno fatica a pareggiare perché in Italia ragazzi tutte le squadre sono forti tutte quante tutte non c'è una squadra scarsa in Italia tutte quelle del campionato sono forti quindi sono in grado di mettere in difficoltà chiunque poi dopo magari se dovessero squadre non abituate a giocare in Champions o in Europa Ligo quello che è farebbero fatica perché l'emozione non sono abituate però quando non c'è quell'emozione lì queste squadre qui in Italia bastonano bastonano anche le squadre importanti capito? Cassano allora ancora convinto che il calcio italiano sia scarso no perché io quando lui disse questa cosa io mi sono inalberato parecchio ho fatto uno o anche più più video a questo riguardo puntando il dito contro Cassano che aveva detto questa madornale stupidaggine per me e ieri sera sono contento anche per questo perché è stato dimostrato a Cassano che che non capisce niente Cassano tu hai giocato nel Real Madrid hai giocato in squadre importanti perfino nel Real Madrid sembra quasi che lui Cassano ha un grandissimo talento un grandissimo talento questo è indiscutibile infatti non sarebbe mai andato a giocare nel Real Madrid se non avesse un grandissimo talento però è come se lui fosse concentrato talmente su se stesso che non si accorge di quello che gli succede attorno lui non capisce niente di calcio lui non capisce niente ragazzi sto parlando di Cassano fa tutti quanti i suoi discorsi che sembrano tutti sensati però poi alla fine se ne viene fuori con il calcio italiano fa schifo il calcio italiano fa schifo il calcio italiano fa schifo va bene spero che almeno in questo si sia ricreduto siccome l'Inter è la squadra più forte del campionato italiano almeno così tutti dicono lo dicono tutti tutti non so se sia per scarabanzia non lo so però tutti dicono così io sono convinto che l'Inter sia la squadra più forte del mondo altro che italiano però allora parlando dell'Inter stasera c'è l'Arsenal e io ho un bruttissimo ricordo dell'Arsenal mi ricordo il 3 a 0 che nel 2003 mi pare che con il quale vincemmo giù da loro a Londra su no giù che vincemmo in casa loro e poi dopo mi ricordo la partita di ritorno a Milano che vinsero loro 5 a 1 e ci sbatterono fuori dalla Champions League questo è un brutto ricordo che non mi piace e stasera e stasera che c'è la partita di nuovo Inter Arsenal non no non sono preoccupato nel senso che innanzitutto le squadre sono completamente diverse da 21 anni fa giusto quindi sono altri altri periodi storici però sono preoccupato un pochino perché ho visto ho visto la formazione adesso ve la faccio vedere ecco qua allora Bissek Devrai Pavard naturalmente Sommer in porta in difesa questi tre poi dopo a centrocampo Darmian a sinistra Mkhitaryan Prattesi Cialanoglu e Dumfries a destra Lautaro e Taremi in attacco staremo a vedere se finalmente Taremi ci fa ci fa capire che abbiamo fatto bene diciamo a prenderlo all'Inter perché fino adesso fino adesso è una delusione ecco diciamola diciamola chiara e tonda come è fino adesso non ha dimostrato niente di buono speriamo che stasera si sblocchi e sarebbe il momento adatto perché farlo con l'Arsenal non solo ci favorirebbe favorirebbe la vittoria dell'Inter ma favorirebbe anche la sua autostima la sua convinzione di essere forte che io credo che non ce l'abbia più neanche lui perché prima ce l'avevano tutti io non lo conoscevo l'ho già detto ce l'avevano tutti la convinzione che fosse forte adesso invece tutti quanti sono un po' delusi io posso dire di essere deluso anch'io ma posso anche dire di non esserlo perché non sapevo com'era ho visto quello che è sono deluso dal fatto che non è quello che dicevano almeno finora speriamo che stasera si sblocchi e dimostri quanto vale quello che vale e che vale parecchio questo è questa è la speranza Darmiana a sinistra al posto di Marco va bene va bene no no Darmiana mi piace sia chiaro però prima di tutto lo vedo più a destra che a sinistra però e poi insomma al posto di Marco anche di Marco probabilmente dovrà riposarsi un po' in vista del Napoli così come Bastoni che riposa stasera e al suo posto c'è Bissek a sinistra e lì mi tornano in mente preoccupazioni che ho avuto qualche tempo fa quando abbiamo preso due gol da quella parte lì mentre Bissek era da tutt'altra parte invece di starsene lì a difendere era in attacco e là era rimasto invece di rientrare allora io so che alcuni si risentono perché tutti quanti contro Bissek non è che tutti quanti ce l'hanno contro Bissek ce l'hanno con Bissek io non ce l'ho con Bissek mi è pure simpatico però ragazzi se uno ti è simpatico ma non sa fare il suo lavoro bisogna dirlo non è che si può nascondere il fatto che non faccia bene finora soprattutto a sinistra che non faccia benissimo il suo lavoro nasconderlo significa danneggiare l'Inter alla fine dei conti quindi è meglio dirlo così magari anche lui si dà una svegliata si dà una svegliata sta un pochino più attento si ricorda che cosa deve fare invece di farsi trascinare dall'onda dell'entusiasmo per andare a vedere se riesce a fare gol lui il suo lavoro è quello di difendere poi se fa gol tanto meglio ma l'importante è che difenda questo oh è quello che penso io ragazzi io la penso così per quanto riguarda il resto va bene va bene va benissimo frattesi al posto di Barella anche lui probabilmente risparmiato per il Napoli insomma stasera ragazzi affrontiamo affrontiamo l'arsenal senza Turam senza Barella senza Di Marco e senza Bastoni io spero ardentemente che Inzaghi sappia che cosa sta facendo lo spero ardentemente perché la formazione mi lascia un pochino perplesso speriamo bene speriamo bene speriamo che lui abbia visto cose che io non posso aver visto e che magari anche se ce l'ho sotto gli occhi non le vedo ma le vede lui perché lui è bravo e io no però ho qualche piccola apprezzione ce l'ho ma forza Inter ragazzi forza Inter e basta forza Inter si sbloccano tutti stasera fanno tutti quanti una partitona una partitona gigantesca una partitona galattica per rifarsi al Milan Real Madrid ok detto questo vi saluto ragazzi perché già mi sono mi sono dilungato anche troppo anche troppo quindi vi invito di nuovo a iscrivervi al canale cliccare sulla campanella lasciare un like e un commento se vi va di dire qualcosa oh sempre educatamente ragazzi sempre educatamente adesso mi sono dimenticato di dirlo all'inizio però sono arrivati ancora altri personaggi che mi hanno insultato non ho ancora capito perché mi insultano visto che io non parlo male di nessuno anche adesso avete visto non è che ho parlato male della Juventus o del Milan io non parlo male di nessuno non offendo nessuno e non prendo in giro nessuno ma questi arrivano e mi offendono e mi insultano continuamente farò un video su questo probabilmente anzi voglio voglio vedere magari faccio un video dove vi riporto i loro insulti adesso me li segno tutti quanti non lo so non lo so se lo farò non lo so ma ci penserò ci penserò absolute burdelle burdelle e ciao forza inter forza inter tosti duri come il marmo stasera anzi no di più del marmo come il granito anzi no di più come il titanio ok anzi no di più come il carbonio carbonio sì la fibra di carbonio quella roba lì ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti